Anche se bisogna dire che è una situazione questa abbastanza anomala, positivamente anomala perché non mi risulta che nella provincia in cui noi lavoriamo, è tutta la provincia di Varese, più non di là, ci siano situazioni di questo genere. Quindi aziende, diciamo, innanzitutto non ci sono attività dell'amministrazione di questo tipo e secondo non ci sono quelli di sponsor che hanno una durata di collaborazione così tutta. Noi ci sentiamo orgogliosi, devo dire, però l'aggettivo giusto è questo di essere ogni anno presenti, un po' più possiamo, perché evidentemente l'altro mondo è un po' in tribolazione nel momento, però noi andiamo avanti e i paramontri cerchiamo di non guardare le cose brutte, di cercare di guardare sempre il positivo e poi c'è questo fenomeno che è anticipato prima il suo sindaco che c'è quella coincidenza che tutte le varie giornate con questa di presentazione del punto stato, noi arriviamo con delle novità a volte veramente importanti come questa che è la nuova megan Eintec che insegna un percorso nuovo per la nostra marca. Grazie. 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 Grazie.